Una classe di 6 o 7 anni, sono venuto qua dentro e mai ci ho detto, vedete bambini, la c'è solo il nuvole e non c'è il sole. Adesso io faccio girare un po' pubblica, ma poi farò vedere l'erica. Vedete che da un po', in qualche ora, 20 minuti, si apre le nuove e viene qua il sole. E dopo, in quinti minuti, si apre le sole, i bambini hanno fatto bene e bene, mi ha dato una più grande soddisfazione della mente. E le pare le sole. . E le pare le sole. E le pare le sole. E le pare lì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.